Una somministrazione di terapia antitrombotica avrebbe potuto ridurre del 60% il rischio di decesso post-operatorio a una puerpera di 30 anni che era la 27esima settimana di gravidanza e che invece è morta il 13 febbraio 2018 mentre era ricoverata all'ospedale Fiorentino di Careggi. Lo avrebbe stabilito l'incidente probatorio chiesto dal PM di Firenze Angela Pietro Iusti e già effettuato nell'ambito di un'inchiesta dedicata dalla Procura di Firenze alla vicenda e che al momento ha sette medici indagati tra cui due anestesisti, un gastroenterologo, il chirurgo che operò la paziente e due ginecologi. La paziente, obesa e con vari problemi di salute, sarebbe deceduta per una trombosi venosa che si è sviluppata a seguito di un intervento di colecistectomia. Secondo l'accusa non le sarebbe stata somministrata la terapia antitrombotica prevista invece nelle linee guida, omettendo di somministrarle una prima dose di eparina a basso peso molecolare 12 ore prima dell'operazione. I medici, sempre secondo il PM, avrebbero inoltre compiuto un'ulteriore violazione delle linee guida previste dalla regione toscana, secondo le quali la decisione di non somministrare questo tipo di terapia deve essere motivata con una relazione ad hoc che invece non sarebbe stata redatta.